Gli spazi dell'Istituto Tecnico Industriale di Oristano saranno lo scenario che accoglierà la quarta tappa del Job Day Sardegna 2024. Le porte si apriranno alle 9.30 di giovedì 7 marzo. L'appuntamento è promosso dall'assessorato regionale del lavoro e dall'ASPAL e segue quelli di Sassari, Olbia e Nuoro che hanno fatto registrare uno straordinario successo che testimonia la bontà della formula territoriale inaugurata lo scorso anno. Anche ad Oristano sono attese migliaia di persone che visiteranno i diversi stand presso i quali si svolgeranno gli incontri fra candidati e imprese e gli studenti delle quarte e quinte degli istituti superiori dell'intera provincia interessati a conoscere le possibili prospettive per il loro futuro. Ruolo fondamentale sarà svolto dai centri per l'impiego di Oristano, Ales, Bosa, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba che forniranno agli utenti informazioni e supporto per tutta la giornata. Saranno presenti le università, le agenzie formative, gli istituti tecnici superiori, le istituzioni e le forze armate che proporranno i loro progetti, i programmi ed i corsi di formazione. Ed ora parliamo di salute e in particolare di un convegno per sensibilizzare l'opinione pubblica e anche le istituzioni sull'impatto dell'endometriosi specialmente nel contesto lavorativo. L'ha organizzato questa mattina il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sulla malattia che colpisce il 10% delle donne in età riproduttiva. Mauro Lodo di UTG In Italia sono più di 3 milioni le persone che soffrono di endometriosi ma in Sardegna è ancora difficile fare una stima esatta delle donne colpite da questa patologia proprio perché è ancora poco conosciuta. E quanto emerge dal convegno organizzato dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Chirurgiche delle Università di Cagliari. Obiettivo dell'incontro? Sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di una maggiore consapevolezza riguardo l'endometriosi soprattutto in ambito lavorativo. Una malattia che si riscontra in circa il 10% delle donne in età riproduttiva ma che è particolarmente frequente in quelle con problemi di sterilità con il 35% e con un dolore pelvico oltre il 60%. Inoltre la patologia soffre di un ritardo diagnostico che va dagli 8 ai 10 anni. La necessità di informare è quindi fondamentale. La sensibilizzazione è molto importante su tantissimi temi perché è comunque una patologia che interessa solo le donne e quindi che possono trovarsi comunque discriminate anche nel mondo del lavoro come tante altre discriminazioni che vengono subite dalle donne. Questa si aggiunge e quindi per noi è importante per questo motivo. Il ruolo dell'associazione è fondamentale per agire come ponte tra le esigenze delle persone affette dalla malattia e le istituzioni. Grazie all'attivismo e all'impegno di chi vive l'endometriosi ogni giorno negli ultimi anni si è iniziato a demolire i tabù che ancora circondano le patologie dell'apparato riproduttivo femminile. Lo dico molto apertamente. Io non ho avuto la fortuna di tutto questo. Ora come ora mi sento proprio in dovere di aiutare e poi aiutare, ti aiuta anche a te stessa, aiuta all'anima e andare avanti e essere consapevoli che questa malattia ti toglie tanto ma ti dà anche tanto altro. Apriamo la pagina della cultura. Stamane a Porto Torres si è tenuto il convegno archeologico sui culti orientali nell'antica colonia Iulia di Turris Libisonis. Trenta gli studiosi che hanno partecipato ai lavori. Valentina Ruiu. Nell'ambito del convegno Navigium Isidis, titolo dedicato alla dea della navigazione Iside, Porto Torres ha ospitato oltre 30 studiosi da tutta Italia per disquisire dei culti orientali a Turris Libisonis che nella Sardegna romana ne rappresentava il centro di attrazione e diffusione. E la cosa interessante è che Porto Torres è dunque in questo crocevia di influssi e soprattutto non solo del traffico ma da chi porta il culto che poi sfocerà in quello della Madonna col bambino. Quindi vedete un po' Iside rappresenta in realtà un utile tradunion tra la sponda orientale e la sponda occidentale. Infatti l'antica colonia Iulia conserva ancora le testimonianze dell'influsso culturale dell'Egitto tolemaico. Questo ci dà il segnale di una comunità sin dall'inizio molto aperta verso lo straniero e questo è sicuramente un insegnamento che dobbiamo ottenere. Culti come quello di Iside, come quello di Bubastis, addirittura al museo di Porto Torres c'è una lucerna ancora figurato a nubi, ci mostrano che questi culti erano diffusi e appartemente praticati nella città romana. Il convegno ha rimarcato la centralità del territorio turritano nel Mediterraneo, crocevia di popoli, culture e tradizioni. Il culto di Iside, i culti orientali ben collocati al centro del Mediterraneo dove la capofila di questo passaggio culturale di popoli era proprio la Turris Libisiones e dunque Porto Torres. Vorremmo provare per il futuro a ricollocarci sia culturalmente che dal punto di vista commerciale ma soprattutto come importanza culturale al centro di quel mondo. E siamo allo sport con il calcio. L'attaccante del Cagliari, Isito Luvumbo, salterà la gara con la Salernitana e molto probabilmente anche quella successiva con il Monza. Gli accertamenti dopo l'infortunio rimediato dal giocatore nella gara di domenica contro l'Empoli hanno evidenziato una distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro. E ancora a calcio sentiamo le parole di mister Greco, allenatore della Torres al termine della partita di sabato contro il Pescara che ha decretato la vittoria per 4-1 della Torres in casa. Siamo stati bravi insomma anche quando abbiamo preso gol che secondo me non meritavamo di andare sotto però i ragazzi poi hanno continuato a giocare, a pensare a fare la prestazione e alla lunga hanno meritato questa vittoria bella, importante. Oggi mi è piaciuta la squadra anche per come ha letto la partita a livello tattico per come l'avevamo preparata quindi bisogna fare veramente i complimenti ai ragazzi. Il dubbio mio era solo sull'episodio sul rigore del Ruocco e mi sembrava, lui ha detto che il Labio che l'aveva spinto ma a me sembrava che era avanti Ruocco in quell'occasione quindi però ci sta, però nonostante tutto ripeto i ragazzi hanno continuato a, hanno dimostrato grande carattere grande voglia di recuperare e di vincere la partita e una prestazione del genere bella e andiamo avanti cercando di pensare partita dopo partita e arrivare nella migliore posizione classifica alla fine. E con lo sport termina qui la nostra edizione del telegiornale grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti